Luigi Einaudi è ricordato per il suo pensiero liberale. Mi piace però sottolinearne due aspetti di forte attualità nel dibattito politico-culturale degli anni 2000, ovvero la separazione, il paese diviso in due tra nord e sud. Einaudi fu, da piemontese, uno dei primi che riconobbe che i settentrionali approfittarono della debolezza delle popolazioni meridionali, della condizione del mezzogiorno dopo l'unità d'Italia. E l'altro aspetto che mi piace ricordare è quello sulla giustizia, che Einaudi diceva sempre, non esiste giustizia se non c'è libertà. In questi tempi in cui si sta discutendo della riforma del processo e c'è chi pensa di tenere imbrigliati i cittadini in un'aula di tribunali in eterno, forse ripensare alla libertà di Einaudi sarebbe opportuno. Il liberalismo economico Incessibere alla libertà di Einaudi sini,